raccogliendo le segnalazioni dei cittadini mi trovo qui a taranto in via venezia giulia una situazione stranissima vedete proprio ve lo faccio vedere in presa diretta questo piccolo budello questa strada stradina piccola che è sprovvista di marciapiedi di modo che se io devo camminare penso una mamma col passeggino penso a un disabile penso ma qualsiasi persona passa rischia di essere travolta dalle auto perché non c'è il marciapiede né da una parte né dall'altra è una cosa incredibile quindi a un certo punto qui peraltro io non so c'è anche una struttura in in mura una costruzione delimitata da questo muro secondo me l'amministrazione deve intervenire con un atto attraverso il quale espropria un tratto di area per garantire il marciapiede o da una parte o dall'altra bisogna provvedere espropriando ripeto quel quel pezzo quel quel tratto quella piccola area tale da consentire la realizzazione di un marciapiede non vedo altra soluzione perché qui si rischia vedete di essere travolti travolti io cammino qui e vengo travolto qui manca il marciapiede vi sto facendo vedere tutta via venezia giulia a partire dal di in fondo ma il rischio diventa qui qui siamo in balia di noi di noi stessi anzi delle macchine che passano allora io mi domando ma le autorizzazioni come sono state concesse e se ci sono state delle delle autorizzazioni che a mio avviso sono state concesse in maniera errata ora si deve porre rimedio cari signori dell'amministrazione comunale studiate voi il metodo lo strumento tecnico l'atto tecnico attraverso il quale intervenire ma qui in questo tratto ci deve essere il marciapiede io ho lanciato l'idea di procedere attraverso appunto un'azione attraverso alla quale l'amministrazione è spropria questa è una mia come dire idea ma in ogni caso provvedete voi qui io non devo correre il rischio di essere investito o da una parte o dall'altra va fatto il marciapiede senza misericordia se vogliamo garantire la sicurezza dei cittadini se poi vogliamo che il il cittadino venga investito o vada voli per aria perché un momento è qui le macchine stanno transitando grazie a dio in questo momento come dire una velocità normale corretta moderata ma immaginate un po' quando si corre immaginate un po' la sera col buio e ditemi voi ditemi voi io sono per espropriare l'aria poi troviamo una soluzione grazie a tutti raccolgo l'esasperazione degli abitanti di via dante 400 a taranto parliamo di tutta questa schiera di palazzine che sono all'interno no della entrata del civico 400 di via dante quindi parliamo di area comunale area comunale in cui l'amiu chi ma ambiente amiu non esiste non esiste non passa mai e hanno lasciato gli abitanti di questa zona che pagano la tari nel porcile guardate perché le mie parole possono essere come dire secondarie anzi sono secondarie rispetto al al alle immagini alla realtà dei fatti qui abbiamo della sporcizia che si è incancrenita imputridita stratificata vedete da mesi 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 e mesi ma scusate ma quest'area mi domando visto che fa parte del comune di taranto quali colpe hanno da espiare gli abitanti di questa zona quali colpe perché a questi cittadini loro ripeto si chiede regolarmente di pagare la tari in cambio di che cosa della mondezza dell'immondizia della schifezza che sta a terra parliamo di area comunale area aperta al pubblico al transito pubblico vi ho parlato delle delle della sporcizia diffusa lì ma potremmo anche andare all'infinito girare per tutta questa schiera di palazzini e trovare proprio rifiuti che si sono stratificati perché non passa mai il servizio di nettezza urbana qui è inesistente è inesistente è più facile che ti appaia la madonna piuttosto che ti appaia un operatore di chima ambiente amiu e guardate qui poi per non parlare delle condizioni del manto stradale sprofondamenti rappezzi qui è un'area di transito pubblico quindi qualunque cittadino transita e si imbatte in queste realtà cioè come potremmo andare avanti vedete altra situazione se facciamo una bella zoomata anche lì in fondo noi abbiamo lo sprofondamento buche e quant'altro relativamente al manto stradale ma la cosa che più mi ha impressionato è il fatto che questa zona è stata proprio abbandonata cioè è stato negato il diritto di cittadinanza a chi è qui regolarmente cittadino e si nega il diritto di cittadinanza nel momento in cui di fatto si negano i servizi i servizi essenziali la pulizia è un servizio essenziale presidente mancarelli dattina regolato al sindaco non lo dico più perché ormai dorme dalla mattina la sir politicamente è morto politicamente il nuovo scienziato uomo di scienza che è arrivato come come assessore alle società partecipate mazzariello mazzariello da una l'amio chi ma ambiente amio è una società partecipata i cittadini qui vogliono risposte cittadini pagano le tasse per avere che cosa per vedersi ricoperti dall'immondizia cioè io non lo so io non lo so se questi sono cittadini di sanitario e lo sono perché devono essere non so emarginati umiliati sì perché si tratta di una umiliazione vera e propria cioè e oltre che poi sussistono in generale delle ragioni di sicurezza sanitaria perché non è di igiene di norme igienico sanitarie perché non è normale che un'area non debba essere pulita e debba rimanere per l'eternità sommersa dai rifiuti questa signori cari guardiamo facciamola rivedere facciamola rivedere con una bella videata una bella panoramica ma potremmo andare anche oltre negli altri cortili per farvi vedere la realtà e il mi dicevano ma potremmo continuare all'infinito anche qui perché ovviamente ci si dipana tra varie tra vari vicoli e la sporcizia è inaudita inaudita e per completare guardate le condizioni dell'asfalto guardate sono stati addirittura i singoli cittadini abitanti che hanno dovuto rappezzare per cercare di mettere un po di cemento qualcosa di assurdo i tubi che fuoriescono insomma insomma una situazione mai vista è tutto rotto hanno provveduto ecco guardate qui guardate hanno tombini tombini spostati guardate hanno dovuto provvedere i cittadini ma alla meno peggio un porcile un porcile un porcile non ci sono parole trattati gli abitanti come se questa fosse una terra di nessuno io da consigliere comunale pretendo che gli abitanti di via dante 400 abbiano il riconoscimento di del loro diritto ad una vita normale in condizioni normali di condizioni igienico sanitarie che l'amministrazione ha il dovere di garantire punto e basta